Ieri mattina è avvenuto un tragico incidente che ha portato alla morte di Alessandro Fabiano, un uomo di 66 anni, ex carabiniere residente a Policoro, nella provincia di Matera. L'incidente è avvenuto nel suo terreno situato in via Angeli della Strada, mentre stava utilizzando una moto zappa. Purtroppo le sue gambe sono rimaste intrappolate nelle lame rotante dello strumento agricolo. Nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Policoro e dell'elisoccorso del 118, i soccorsi non sono riusciti a salvargli la vita. Alessandro Fabiano aveva dedicato anni alla sua carriera come carabiniere e si era ritirato a Policoro per godersi la pensione. Una perdita dolorosa per familiari, amici e colleghi. La comunità si è stretta intorno alla famiglia Fabiano per offrire conforto e supporto in questo momento difficile. Le autorità locali stanno indagando sull'incidente per comprendere esattamente cosa sia accaduto e per prevenire futuri incidenti simili.